Buon pomeriggio e bentrovati su Lazio Style, campionato primavera, Stadio Ricci, Sassuolo-Lazio in palio, punti playoff. In voce Luca Stoduto a raccontare la ventitresima giornata che può essere uno snodo piuttosto interessante in chiave classifica. Sul campo del Sassuolo, terreno in erba naturale. Cinture allacciate, semaforo verde si va. Vedovati, prova ad uscire dalla pressione del Sassuolo che recupera. Attenzione a Bruno, va col sinistro fuori. Poi Bruno riesce ad entrare in area, va col destro, la parata di Magro, ancora il Sassuolo dentro, pericoloso. Poi arriva, vantaggio nero-verde, l'ha ribattuta. Sassuolo avanti al ventitresimo. Gol di Vedovati. E non c'è tempo. Finisce qui, uno tempo in archivio, Sassuolo avanti, 1-0. Decide Vedovati. Ma insiste ancora la squadra di Sanderra. Milani, altro cross dentro, palla che resta lì! E poi la Lazio trova il pareggio! Trova il pari! Pareggio Lazio, Sassuolo ripresa.